A settembre in via delle Pleiadi verrà inaugurato il nuovo magazzino in dotazione alla protezione civile ma il vero obiettivo dei prossimi cinque anni è la realizzazione di una nuova sede. A darne notizie a TV Prato il vice sindaco e assessore alla protezione civile Simone Faggi. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di definire un polo legato alla protezione civile che sia unico, legato al territorio e che consenta anche di ospitare in maniera più adeguata le eventuali colonne che dovessero raggiungere il nostro territorio sia per problemi interni ma anche esterni, quindi di ripartenza. Questo è un lavoro che ha già preso piede, abbiamo già fatto i primi incontri, sappiamo benissimo che è un intervento molto importante che richiederà anche risorse importanti, quindi lo faremo con la massima attenzione. Dalla protezione civile alle partecipate comunali, altra delega di competenza di Faggi, il vero punto centrale della discussione politico-amministrativa dei prossimi anni sarà il potenziamento e la sostenibilità del processo legato alla multi-utility. Il primo step è finito, parte una seconda fase che è quella legata alla necessità di diventare punto di riferimento regionale, quindi con una politica di confronto e dialogo con tutte le province della Toscana ma con l'ambizione di far diventare il nostro soggetto industriale nei servizi pubblici centrale nella discussione e nelle scelte. Per fare questo ci sarà bisogno di tanta volontà, ci sarà bisogno di tanta politica, di tante relazioni e ci sarà bisogno anche di un approccio il più lontano possibile dalle ideologie ma il più legato alle esigenze del territorio. Sul versante dell'edilizia popolare è stata sbloccata la prima tranche di 1,8 milioni di fondi ministeriali che potranno dare il via ai lavori da parte di EPP per la realizzazione di 11 nuovi alloggi nell'ex complesso Magnolfi alla Pietà. Faggi ha poi replicato all'opposizione che aveva criticato la giunta Bugetti per la scomparsa dell'assessorato alla sicurezza. Non è una parola che cambia la competenza, la Polizia Municipale è il corpo dell'amministrazione comunale che farà tutto quello che è necessario fare e che viene riferito dalla legge alle competenze comunali e noi su questo siamo ben presenti. Faggi assicura infine un giro di vite nella lotta all'abbandono dei rifiuti. È un fenomeno che noi dobbiamo estirpare nei prossimi anni e quindi molta attenzione anche dai punti di partenza di questi sacchi neri perché non possiamo più accettare e tollerare che una modalità produttiva si scarichi da un punto di vista ambientale ed economico sulla città. Il secondo elemento è legato alla gestione degli abbandoni, quindi stiamo lavorando con la società per strutturare una modalità per cui sarà possibile in un tempo determinato intervenire e togliere dallo spazio pubblico i rifiuti abbandonati. Questo è un impegno che ci prendiamo, un impegno che vogliamo portare a termine nei prossimi mesi. Grazie a tutti.